Nuova puntata. Jack Lemmon e Walter Notao, no? No, attenti a quei due. I due siamo uno di sempre, Gidano Grassucci e Francesco Miscioccia. Senti, ma perché oggi vuoi fare il cameriere? No, oggi mi sono vestito da cameriere perché la situazione non è grave, ma non è seria. Ci vuole un pavion per sottolineare la non serietà della situazione. Sì, perché oggi parliamo dell'Imu sulle Terme di Fogliano. Parliamo del fatto che il Comune ha scoperto che il Comune non ha pagato se stesso. Non ha pagato se stesso. No, a un certo punto il Comune, che sta mettendo le cose in ordine, ha scoperto che la società Terme di Fogliano non pagava l'Imu. Lo sai di chi era Terme di Fogliano? Comune. No, però, devo dire che è del 98% del Comune, perché l'altro 2% di chi è? Della Provincia. Della Provincia. E' della Provincia. Quindi è bellissimo perché praticamente adesso faranno la multa a se stessi e pagheranno se stessi. Così si risane. Hanno scopato un grandissimo evasore. Chi è il grande evasore dell'Imu? Il Comune di Davide. Io non sono abituato a fare la pubblicità in questa trasmissione, anche se meriterebbe di essere sponsorizzata da qualche avveduto imprenditore. Ma vorrei... Sul l'Imu? No, su questa trasmissione, sulla nostra tentativa. Ah, noi due. Ma ormai siamo diventati il cult. Ma... Ma non siamo noi ridicoli. È il sindaco. È fatto da solo. Inviterei i cittadini, tutti quanti i nostri seguaci, a andare a vedere il film l'ora legale di Conficarra e Picone. Secondo me, voglio dire, ci troveranno nel film delle similitudini. No, con questo sta per sinistra, no. Delle similitudini. No, guarda, il fatto che... Quello che sta accadendo è in questa città. Secondo te il Comune manderà un'ingiunzione del pagamento al Comune? Cioè, praticamente, dall'ufficiale giudiziaro. L'ufficiale giudiziaro. Quindi il sindaco firma l'ufficiale giudiziaro, quello esce dalla porta, bussa e risa e dice, scusa, mi devi pagare l'Imu. È bellissima questa cosa. Va bene. Ma secondo te così la Merkel sarà contenta perché i conti saranno in ordine e tutti avranno pagato. E poi con che faccia chiedono agli altri di pagare l'Imu se loro non la pagano. Alla prossima volta.